Dall'abito bianco alle fedi e gioielli, dalle creazioni floreali alle acconciature passando per location incantate, il tutto immerso in una suggestiva atmosfera bucolica ricreata all'interno dello store aretino Show Garden che per la prima volta ad Arezzo ha ospitato l'evento Wedding Garden. Si tratta di un evento dedicato esclusivamente agli sposi, ai futuri sposi in cui possono trovare i fornitori della wedding industry, agenzie di viaggio, abiti da sposa, floral, gioielleria, diciamo un po' tutto quello che riguarda il comparto sposi. Una manifestazione dunque rivolta a sposi e coppie in genere, non a caso le date sono state sabato 15 e domenica 16 febbraio per dar così continuità al 14 febbraio San Valentino festa di tutti gli innamorati. Proprio perché è la giornata dell'amore, magari chissà, proprio in quel giorno si sono promessi in sposi e quindi magari è l'occasione proprio per iniziare a percorrere, diciamo, questo tragitto, no? Perché porta al matrimonio. Nella due giorni, organizzata da Season Eventi, le coppie che hanno in programma il loro giorno più bello hanno trovato anche tante novità proposte dai settori che si stanno rinnovando anche in chiave wedding. Dopo un'esperienza decennale sull'organizzazione di eventi all'aperto ci arrivano già da qualche anno richieste di organizzazione di catering, di wedding, quindi matrimoni o feste private in formato street food, quindi con i track vintage, l'ape, il furgoncino da file dei fiori, insomma, queste cose qua. E insomma, ci stiamo dietro e abbiamo organizzato già qualche festa, qualche matrimonio e ci piace perché è una forma diversa da quella che è la situazione più popolare dell'evento all'aperto e per far modo che lo street food entri sempre più nel quotidiano.